Ruspe ferme e abbattimento sospeso almeno per ora, ma la sorte dei ficus superstiti di Piazza Politeama, nonostante lo stop deciso ieri dal Comune sull'onda d'urto delle proteste, sembra segnato. Di certo c'è che gli operai non taglieranno un ramo fino a martedì, mentre per lunedì il vice sindaco Emilio Arcuri ha convocato un'assemblea cittadina a Villa Trabbia per spiegare nel dettaglio il progetto. Alla riunione parteciperà anche l'assessore comunale al Verde, Francesco Maria Raimondo, duramente contestato, in particolare dalle associazioni ambientaliste, perché nonostante le ripetute richieste di informazioni ed un incontro recentissimo sulla questione del Verde sacrificato ai cantieri, non aveva fatto mai cenno al taglio dei ficus nella piazza centrale della città. Dalla società che cura l'appalto dell'anello ferroviario, la Italferre, dalla stessa amministrazione comunale arrivano risposte analoghe. Il progetto è noto a tutte le approvazioni del caso e comunque gli alberi tagliati, qui come nelle altre zone interessate dai cantieri, saranno sostituiti. Insomma, all'abbattimento non c'erano alternative, né c'è una soluzione per salvare i due ficus che ancora restano in piedi nella piazza Politeama. Al loro posto dovrebbero arrivare Iacarande, Arance e Frassini, e anche di questo parleranno Arcuri e Raimondo durante l'assemblea di lunedì, davanti ai cittadini e ai gruppi di ambientalisti invitati, e che però all'amministrazione contestano anche silenzi e comunicazioni tardive su un aspetto della questione certamente non secondario, soprattutto laddove gli alberi siano vecchi di oltre 50 anni, ad alto fusto, o addirittura identificativi come le tanto discusse palme che circondano il palchetto della musica, e che il comune proverà a salvare con un riposizionamento ancora tutto da studiare. Le motoseghe in piazza Politeama hanno scatenato, oltre alle proteste, anche una lunga scia di polemiche che è proseguita sui social. Vedremo lunedì se il comune riuscirà ad accorciare le distanze.